Questa è la seconda iniziativa promossa dall'Assemblea legislativa dell'Umbria sul tema legato al progetto educazione alla cittadinanza rivolto agli studenti delle scuole degli istituti Umbri. Seconda iniziativa la prima lo scorso mese di ottobre sempre in questa sala con il giudice Nicola Gratteri sui temi della lotta alla mafia e della legalità. Oggi il tema è l'evoluzione della corruzione da mani pulite ad oggi, che cosa è cambiato? Una questione soltanto sul progetto educazione alla cittadinanza è un progetto cui l'Assemblea legislativa e anche l'attuale presidenza come le altre negli anni passati tiene in maniera particolare oltre 170.000 studenti dagli anni 70 ad oggi hanno visitato questo palazzo e partecipato al progetto educazione alla cittadinanza. In ottemperanza quell'articolo dello statuto della nostra regione in cui si dice che la regione appunto favorisce il godimento dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni e si fa garante della loro partecipazione alla vita della comunità regionale. Lo facciamo anche attraverso queste iniziative. Il tema dicevo l'evoluzione della corruzione da mani pulite ad oggi, che cosa è cambiato e abbiamo qui rispetto a questo tema uno dei protagonisti principali di questa attività da più di 25 anni ormai il giudice Pier Camillo Davigo, consigliere della seconda sezione penale presso la Suprema Corte di Cassazione. Ne parleremo poi con Fausto Cardella, procuratore capo della Repubblica dell'Aquila, stato in Umbria in diverse procure, Spoleto, Perugia, poi Terni come procuratore capo. Pier Camillo Davigo, tutti voi siete nati tutti dopo quelle vicende che hanno visto il pool di Milano, della procura di Milano al centro di quella inchiesta che è denominata appunto mali pulite e che segnò un punto di svolta nella storia politica e istituzionale del nostro Paese con termine forse anche un po' giornalistico, poco storico, segnò la chiusura della prima fase della storia repubblicana del nostro Paese. Ma ne parleremo in seguito, ma è soprattutto sull'oggi che vogliamo approfondire le questioni legate allo Stato, alla situazione legata alla corruzione. Ne parleremo poi con Salvatore Sprecola, presidente della sezione regionale di controllo per l'Umbria. Benvenuti a tutti voi, vi presento i nostri ospiti studenti, sono presenti in questa sala e in un'altra in collegamento in bassa frequenza gli studenti dell'istituto professionale Marco Polo di Bastia Umbra, dell'istituto Rosselli Rasetti di Castiglione del Lago, del liceo scientifico Alessi, istituto Perardino di Betto, istituto Volta e secondaria di primo grado, dell'istituto comprensivo di Ponte San Giovanni, tutti di Perugia questi ultimi quattro.